Cosimo di Roger Olmos per Logos Edizioni, un silent book in edizione cartonata a 18,50€. Questo libro è un omaggio per immagini al barone rampante di Italo Calvino, un libro molto amato dall'illustratore, che riesce a condensare in una sola tavola spesso la descrizione di un personaggio o anche di un'intera scena, come per esempio qui, dove viene raccontata appunto, viene sintetizzata la scena più importante probabilmente del romanzo, che è quella in cui Cosimo si ribella e non vuole mangiare questo piatto di zuppa di lumacca e decide di vivere tutta la sua vita sugli alberi. Il racconto della storia viene portato avanti attraverso queste illustrazioni con lo stile caratteristico di Roger Olmos, quindi uno stile estremamente fantastico a tratti anche surrealista, in cui appunto il lettore che conosce già la storia può riconoscere i vari episodi e ritrovarsi trovando anche nuove sfumature e nuove interpretazioni della storia. Mentre invece per un lettore che non ha ancora letto, quindi anche eventualmente un lettore bambino che sicuramente si riconosce in questo modo di rappresentare personaggi e vicende, può imparare a conoscere il personaggio e magari anche fantasticare sulla sua storia non necessariamente seguendo la trama così com'è riportata nel romanzo.